Sono rimasti pochi giorni per gli ultracinquantenni che mancano all'appello tra gli abruzzesi immunizzati. Sette giorni per vaccinare circa 67.000 persone che rischiano di incorrere nelle sanzioni previste con l'obbligo vaccinale. Per 40.000 di loro, cioè i cinquantenni e i sessantenni ancora in attività lavorativa, il primo febbraio ha anche un altro significato. È l'ultimo giorno per ricevere la prima dose e quindi ottenere il Super Green Pass entro il 15 febbraio, visto che l'intervallo è proprio di due settimane. Da quel giorno, infatti, per gli over 50 scatterà anche l'obbligo di esibire il certificato verde rafforzato sul posto di lavoro. Se ne saranno sprovvisti, allora andranno incontro alla sospensione dal lavoro e allo stop dello stipendio, fino a che non si metteranno in regola con la vaccinazione. Saranno infatti considerati assenti ingiustificati, senza però conseguenze disciplinari. In caso di accesso ai luoghi di lavoro senza il Super Green Pass, rischieranno una sanzione dai 600 ai 1.500 euro, ma a rimarcare l'importanza della vaccinazione responsabile regionale della campagna vaccinale, Maurizio Brucchi. Sicuramente ce ne sono ancora diversi in Abruzzo, però devo dire che dobbiamo tener conto anche che ci sono tanti positivi, e quasi sicuramente tanti over 50 si sono positivizzati, per cui non arriveranno alla vaccinazione. Ecco perché magari in numeri in questo momento c'è anche una fase di discesa, sia delle protazioni, sia degli accessi nei nostri hub, un po' a livello, questo è un po' diffuso a livello regionale. In ogni caso gli over 50 hanno la possibilità di vaccinarsi, perché le protazioni sono possibili, ci si può vaccinare anche senza protazione, in più le ASD stanno mettendo in campo una serie di eventi, di giornate dedicate, per poter dare la possibilità alle over 50 di vaccinarsi, per cui chi si vuole vaccinare si vaccina. Il concetto resta sempre lo stesso. Oggi la vaccinazione salva la vita. Noi proprio nella giornata di ieri qui a Teramo un signore di 53 anni è deceduto perché era non vaccinato, e quindi credo che questo sia il dato più importante e che deve convincere gli over 50, tutti ma in particolare gli over 50, a vaccinarsi.